E' dunque presentazione di quarta serie blocchi di partenza e la tonetto in uno, Alessandra De Poli in due, in terza corsia e la vice campionessa italiana assoluta della 5 km in Lascano che è nazionale assoluta, gli europei di fondo di Orna 2016, Barbara Pozzobon, Idros Al suo fianco in quarta corsia, Claudia Rigo in 5, Valentina Brollo in 6, in essi fermati in 7, Linda Picchieran in 8, Caterina Bettin Grazie 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 vittoria urbanetto 209 e 47 urbanetto categoria ragazze si aggiudica questa quinta serie